beh amici e amiche in ogni azienda c'è sempre lui il fan cazzista quello che si mette timbra cartellino entra in azienda e sta a guardare il muro per tutto il giorno timbra cartellino va a casa e prende lo stipendio mensile eccolo qua è lui il fan cazzista ciao ragazzi alla prossima ciao